Il progetto è una scommessa sul futuro perché mette in evidenza le capacità e le competenze del nostro territorio attraverso i giovani, i ragazzi e le ragazze, tanti che hanno aderito e hanno partecipato nella produzione di idee e mette insieme anche una serie di attori istituzionali, la regione attraverso i tre assessorati e la Camera di Commercio, Confindustria, per accompagnare a creare delle imprede innovative che non abbiano soltanto il territorio come punto di riferimento ma abbiano il Mediterraneo e non solo quindi è la prima scuola di creazione di impreda euro-mediterranea esistente per far questo abbiamo messo insieme tre incubatori e acceleratori che sono tra i più importanti in Italia Rural Hub, In Lab della LUIS a Roma e Poli Hub del Politecnico di Milano con questi attori cercheremo di accompagnare per sei mesi nell'ambito del progetto FUTING della regione FUTING della regione Puglia 30 giovani innovatori, 30 idee che diventeranno noi lo speriamo impreda, attività agroalimentare o agroindustriale o accompagnatori di imprede per quanto riguarda tutte le tecnologie di internet. C'è una naturale sintonia tra l'incubatore che oggi lo Iampara e le politiche di volenti spiriti sono fondate entrambe sull'idea che bisogna liberare l'energia e i giorni di accompagnare i processi di innovazione e credo che questo significa che le politiche regionali non sono più isolate, non sono più un esperimento solitario ma stanno diventando un nodo di un sistema dell'innovazione che sta coinvolgendo molte altre istituzioni del territorio tra cui mi piace sottolineare il lavoro pregevole, cruciale e decisivo che sta svolgendo l'OIAM per accompagnare l'innovazione nella filiera dell'agroalimentare in cui abbiamo tantissimo bisogno.